L'aloterapia si basa sull'utilizzo del sale minerale naturale o sal gemma, conosciuto da secoli per i suoi benefici e effetti sulle malattie del sistema respiratorio e su alcune patologie dell'acute. È una terapia naturale che, sfruttando le proprietà antimicrobiche e igroscopiche del sale, non sostituisce la terapia farmacologica, ma spesso può ridurre l'assunzione migliorando le condizioni del paziente. L'aloterapia si esegue nella grotta del sale, così denominata perché tende a riprodurre le caratteristiche nelle miniere di sal gemma. Questo trattamento migliora il funzionamento delle ciglia vibratili dell'albero respiratorio, assicurando un'igienizzazione dell'intero albero broncopolmonare, svolgendo un'importante azione antimicrobica e antinfiammatoria. Viene praticata nella stanza del sale, caratterizzata da pareti e pavimenti ricoperti di sale, in un ambiente ipoallergenico con temperatura ed umidità costanti. La seduta dura 40 minuti ed il ciclo ottimale è di 10 o 15 sedute, preferibilmente a giorni alterni, da ripetere più volte nell'arco dell'anno.